Il caro Bollette sta mettendo in ginocchio tanti imprenditori, bollette triplicate se non quattruplicate rispetto alla passata stagione estiva. A lanciare un nuovo allarme Anthony Romani, gestori di un albergo, una pizzeria e un lido tra Cologna e Roseto, che si è visto recapitare tre bollette per un totale di 15.300 euro relativi solo ai consumi di corrente del mese di luglio. Una vera e propria mazzata perché ha lavorato con una previsione di costi, poi vanificata dai superaumenti. La situazione è drammatica e difficile. Siamo solo a luglio e queste sono le bollette che ci sono cadute dal cielo. Mi immagino quello che può arrivare è il mese di agosto. Ci sono bollette dove abbiamo consumato quest'anno anche di meno, eppure è arrivato il regalo. L'avevamo messo in conto l'aumento, ma di 1.000, 1.500 euro, ma non di 5.000 euro. Per noi, a ogni attività, per noi è stata una mazzata. Questo comunque vi porta via il guadagno dell'attività che avete portato avanti? No, questo ce la zera completamente e ci mette in difficoltà perché noi stiamo già retizzando quelle passate. Forse ci siamo dimenticati che dal covid da oggi, e io lo dicevo qualche tempo fa, è diventata insostenibile. È un cane che si morde la coda. Un problema che accomune e preoccupa tutti da nord a sud è che sembra peggiorare giorno dopo giorno. Ma per Romani è arrivato il momento di far sentire davvero la propria voce. Per farlo lui lancia un appello diretto a tutti i colleghi e cittadini in difficoltà in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Una protesta pacifica ma efficace e inusuale e che faccia capire quanto i cittadini siano stanchi per le continue richieste di aiuto mai ascoltate. Ho sentito i colleghi, non mi sento di mettere le fatture in vetrina perché non è corretto. Questo è un posto dove la gente esce di casa perché ha gli stessi problemi miei e viene a mangiare una pizza, viene a stare una mezz'ora fuori da tutto. Io sono stufo e sono pronto al 25 settembre di mettere tutte le bollette, tutte le nostre bollette degli operai, dei pensionati, degli imprenditori dentro le urne. Perché non è più possibile. Un governo che si va a dimettere in un momento difficile e lascia a noi il problema, io non l'accetto. Il 25 settembre sono pronto, dovremmo essere tutti pronti a mettere le nostre bollette dentro l'urna.